Nuova settimana, nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. L'autore che incontriamo oggi non è solo uno scrittore, ma è un collaboratore di Padre Pio TV, un amico, parroco a Simeri Cricchi, lui è Don Francesco Cristofaro. Bentrovato Don Francesco, che piacere ritrovarti. Ben trovata Paola, grazie per l'invito e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Di solito ci piace di più l'incontro in presenza, però va bene anche questo collegamento Skype che ci permette di presentare il tuo libro, vediamo la copertina, Signore ti prego con il cuore, itinerario di preghiera personale, edito da Tau Edizioni. Io partirei da questo Don Francesco, dalla dedica. La persona a cui hai dedicato il tuo libro, la persona è la donna che ti ha insegnato a pregare. Sì, Maria Marino, la donna che mi ha insegnato a pregare, perché io a un certo punto della mia vita incontro questa persona, ed è quasi nella preadolescenza. Avevo 13 anni e venivo da un mondo tutto mio, fatto di pietismo, di piangermi addosso, perché a motivo della mia disabilità motoria, paresi alle gambe, ero sempre escluso da tutti, dagli amici, dagli altri bambini, non giocavo a calcio, non sapevo andare in bicicletta, vivevo nella campana di vetro che mi avevano costruito i miei genitori per paura di cadere, di farmi male. Quindi, ecco, quasi quasi io mi ero convinto, anzi togliamo il quasi, di non servire a nessuno, e che neanche il Signore poi del resto mi volesse bene, perché io pregavo la Madonna e chiedevo la grazia, ma questa grazia non avveniva mai. Allora io l'ho pure additata dicendo, o sono cattivo io perché non mi ascolti, o sei cattiva tu. E poi, così ho incontrato questa realtà, che è il movimento apostolico, che è l'ispiratrice, ecco, Maria Marino, e qui con le catechesi, perché è importante la catechesi, l'evangelizzazione, il Vangelo. Ho capito di essere uno strumento anche io nelle mani del Signore, perché c'è un bellissimo episodio che è scoperto in una di queste catechesi, dove viene chiesto a Gesù perché quel ragazzo fosse nato in quel modo, con quel difetto fisico, di che era la colpa, di chi aveva peccato, e Gesù risponde, di nessuno è la colpa, nessuno ha peccato, ma è nato così per rendere gloria a Dio. Allora io da quel momento mi sono visto come la possibile gloria di Dio, no? E soprattutto pian piano ho incominciato a non pregare più per la guarigione mia fisica, ma ho pregato perché potessi sempre più amare la mia vita e quella degli altri. Don Francesco, questo libro è anche corredato da alcuni salmi che tu hai scelto, ogni salmo è una professione di fede. Ci sono delle frasi che ho sottolineato e mi hanno colpito. Una è questa, Benedico il Signore per quei momenti, e l'altra è Gesù ha saputo asciugare le tue lacrime. Sono davvero delle frasi, ma questo è un mio pensiero, nelle quali emerge una grande speranza, ma soprattutto un grande affidamento al Signore. Questo è frutto della mia esperienza, della mia vita, del mio cammino. Quando dico benedico il Signore per quei momenti, voglio dire che non è che la disabilità o le lacrime che ho versato sono favola o fantasia, però a un certo punto della vita, quando il Signore ti entra dentro, ti trasforma e ti dona la pace e ti fa capire il vero significato di quella storia che tu hai vissuto. Perché se prima davo la colpa alla Madonna, Maria, perché era cattiva con me e non ascoltava le preghiere, ho capito che invece il Signore, non esaudendo in quel momento quella preghiera, mi chiamava a servirlo in un altro modo, con la mia fragilità fisica, perché Lui sarebbe diventato la mia forza, il mio bastone, avrebbe reso le mie gambe forti per farmi andare dove vuole Lui. E tu riesci ad andare dove vuoi grazie anche ai social, alle persone che ti scrivono e ti seguono attraverso questi mezzi di comunicazione moderna, attraverso la televisione, i programmi, le varie catechesi che porti anche in giro la presentazione del tuo libro. Questo è evangelizzare a 360 gradi. tu riesci a coinvolgere anche gruppi di persone che ti seguono attraverso i social, che poi magari conosci dal vivo, e lì nasce la scintilla dell'amicizia. Storie come queste, immagino, ti consiglio di scrivere un libro a parte su questo, sulle amicizie, sulle persone che hai conosciuto durante il tuo cammino. Ti ho dato una dritta. Vabbè, in queste conoscenze ci sei anche tu. È vero. Perché, e voglio dire, anzi lo vogliamo dire, perché è bello ricordarle le cose belle, quelle che ti edificano, che tu sei stata con lei che per primo mi ha accolto su Padre Pio TV per una mail, per una conoscenza. Per una dioincidenza. Ti ricordi? Diciamo sempre così. Per una dioincidenza. Bravissima. Sono stato il tuo gancio all'interno di Padre Pio TV. Un'altra frase che ho sottolineato, Don Francesco, è una tua affermazione. Non sei un sacerdote santo, ma desideri la santità. Ah, certo. Sì, chi si può definire santo, cara Paola? Qui siamo sempre in cammino. Però, ecco, anche guardando all'immagine di San Pio da Pietrelcina, che io veramente venero e guardo al suo esempio, tutti i giorni desidero la santità. Perché guardo quella croce, contemplo la croce e mi riconosco di essere lontanissimo ancora da quella santità che emana quel crocifisso. Però, siccome il mio desiderio è quello che alla fine dei miei giorni, quando il Signore vorrà, desidero appunto andare in cielo, allora la santità è un obiettivo da perseguire e da raggiungere. Con la grazia di Dio, naturalmente. Certo, sempre. E poi diciamo che lascia anche un compito a casa, al lettore. Io l'ho inteso in questo modo. Dieci motivi per dire grazie. Ecco, ti interroghi sulla possibilità di... Caro lettore, ma immagino che tu è una cosa che dica anche a te stesso. Ecco, riusciamo a trovare dieci motivi per dire grazie? Tu sei riuscito a trovare dieci motivi per dire grazie? Io l'ho fatto questo esercizio, però voglio dirti questo, Paola, che grazie è una parola bellissima, ma poco usata. La usiamo poco spesso questa parola verso gli altri, verso chi ci fa del bene, ma anche semplicemente un figlio verso la madre, verso il padre. Quindi innanzitutto dobbiamo abituarci a dire grazie a chi ci sta accanto per ogni cosa. E poi farlo questo esercizio, perché nel trovare questi dieci motivi, che possono essere anche 20, 30, si fa un'esperienza bellissima, perché addirittura si arriva a fare un esame personale della tua vita. Tu ripercorri momenti, storie, situazioni, vicende, tristi, dolorosi, gioiose, e così ricostruisci la tua vita con una semplice parola. Grazie. Donna, allora io vorrei ricordare, facciamo rivedere la copertina del tuo libro, che è appunto edito da Tau Edizioni, Signore ti prego con il cuore, itinerario di preghiera personale, un itinerario che è tuo, che però può diventare di ciascuno di noi e di ciascun lettore. Abbiamo parlato di idioincidenze, di legami, di persone che si incontrano, si ritrovano sul loro cammino. Approfitto della tua presenza, Don Francesco, anche per ricordare un caro amico. Lui ha collaborato anche con Padre Pio TV, abbiamo fatto tante cose insieme, lo vogliamo ricordare perché fisicamente non è qui più tra di noi, però davvero lo vogliamo ricordare con tanto affetto e il nostro pensiero va ad Antonella, sua moglie. Egidio Chiarella. Guarda, quando penso ad Egidio, che bello questo ricordo che stai facendo e che stiamo facendo, penso a lui come una persona delicata, delicata in ogni cosa, nei gesti, nelle parole, negli atteggiamenti, una persona rispettosa di tutti, del ruolo di tutti, del lavoro di tutti e soprattutto una persona che desiderava fare bene ciò che faceva e si impegnava davvero a fare le cose bene e per bene. Quindi un saluto ad Egidio, ad Antonella e una preghiera per la sua anima benedetta. Certo, assolutamente. Allora, Don Francesco, ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento, questo è tra le righe, insomma un appuntamento particolare dedicato ai libri, ma vogliamo ricordare anche il tuo programma Fatti per il cielo quando vai in onda ricordalo tu e invita tutti i nostri telespettatori. Grazie. Tutte le domeniche su Padre Pio TV naturalmente alle 8 e 40. Perfetto. Allora, quindi questa settimana doppio appuntamento, Don Francesco la domenica e poi l'appuntamento settimanale con Tra le righe. Grazie davvero di cuore per essere stato con noi. Grazie a te, Paola. a tutta la tua famiglia, alla comunità di Simeri Cricchi e alla parrocchia di cui sei parlo. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie a te, Paola.